Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Filo Connesso Intanto grazie per le nuove iscrizioni Abbiamo superato i 1300 iscritti e noi siamo contentissimi di questo traguardo E grazie anche per il supporto che state dimostrando su questi nuovi video Perché se io sono qui oggi a registrare questo video È perché il video precedente dedicato ad Arduino, IoT Cloud e Alexa Ha superato i 90 mi piace, quindi grazie infinite Per chi è entrato per la prima volta nel nostro canale E se si trova questo video dovete andarvi a vedere il video precedente Ve lo lascio o qui sulle schede o giù in descrizione Ve lo lascio in entrambi i posti così almeno lo trovate sicuramente Vi serve per andare a seguire poi questo video qui Perché la prima parte che trovate su quel video È dedicata alla configurazione della scheda E soprattutto alla creazione di una prima proprietà sulla piattaforma Quindi vi serve per forza avere tutte le nozioni necessarie Per andare a creare il vostro progetto In questo video invece andremo a vedere come far dire ad Alexa La temperatura di una stanza utilizzando un sensore di HT11 Dobbiamo aggiungere all'interno della nostra piattaforma Arduino IoT Cloud La proprietà che ci serve per andare a visualizzare poi la temperatura all'interno della dashboard Creare una nuova proprietà Dagli un nome Io per comodità l'ho chiamata termometro laboratorio E successivamente ho rinominato la variabile che di solito viene creata automaticamente In base al nome della proprietà che andiamo ad applicare Io l'ho chiamata temp per avere una variabile molto corta Che è molto semplice pure da ricordare Successivamente nella tipologia della proprietà Andiamo nella categoria Smart Home e andiamo a selezionare Temperature Sensor La versione della Temperature Sensor la troviamo sia in Celsius che in Fahrenheit Noi ovviamente andremo a selezionarla per i gradi Celsius Ho selezionato il metodo di aggiornamento che permette di andare a visualizzare il valore della temperatura All'interno della dashboard solo se effettivamente la temperatura cambia Quindi ogni volta che c'è una nuova lettura dal sensore DHT11 Questa viene aggiornata anche sulla dashboard Quindi aggiungete la proprietà Entrate su Edit Sketch E in Edit Sketch dovete andare sulla sinistra trovate la sezione Librerie E andate a cercare nella lista delle librerie disponibili DHT E l'andate ad includere nel codice Subito dopo creare due costanti con il Define Una conterrà il pin del sensore E nel mio caso ho utilizzato il pin 7 dell'Arduino MKR Wi-Fi 1010 E la seconda costante andate ad inserire la tipologia di sensore Che nel mio caso è un DHT11 Potreste utilizzare anche un DHT22 per esempio Avevamo scelto anche di utilizzare un LM35 per semplificare le cose Ma abbiamo visto che la lettura è sfalzata E ho un casino con quel sensore Quindi un DHT11 Già vi dà una lettura della temperatura molto ma molto precisa Detto questo Potete continuare nel codice E andare a inizializzare il sensore Con la funzione DHT Una volta che avete inizializzato il sensore Occhio Trovate tutto il codice giù in descrizione Se vi trovate difficoltà trovate l'esempio Nel setup Andate a fare l'inizializzazione effettiva del sensore E ovviamente lo start con DHT.begin Ricordate la variabile che abbiamo creato Prima, al momento della creazione della proprietà Bene, temp Utilizziamo la variabile temp Quindi giù nel loop possiamo scrivere Temp uguale DHT.readTemperature Che ci permetterà di inserire all'interno della variabile temp Ovviamente la temperatura letta da DHT11 Io vi consiglio di aprire il monitor seriale Che trovate a sinistra del web editor di Arduino Se la scheda si connette correttamente Ce lo scriverà nel monitor seriale Tornate in Arduino IoT Cloud Andate nella dashboard E andate a vedere se effettivamente La temperatura viene visualizzata nella dashboard Potrebbe capitare che al momento in cui voi andate ad aprire la dashboard La temperatura non viene visualizzata correttamente O magari non viene aggiornata In questi casi io vi consiglio di chiudere Riaprire il browser E soprattutto spegnere e riaccendere la scheda Perché magari delle volte La sincronizzazione con l'Arduino IoT Cloud Non avviene in modo corretto Possiamo passare ovviamente ad Alexa Quindi aprite l'app Alexa E andate a cercare un nuovo dispositivo Come abbiamo fatto precedentemente Per i led nello scorso video Andate a cercare un nuovo dispositivo Dalla categoria altro Possiamo quindi aggiungere il nostro sensore di temperatura Se volete potete aggiungerlo anche a un gruppo di dispositivi E ovviamente andare a controllare Se effettivamente la temperatura del sensore Collegato ad Arduino viene anche letta da Alexa Per me ha funzionato Se seguite questo tutorial dovrebbe funzionare anche a voi Fatto questo potete chiedere Alexa dimmi la temperatura di termometro laboratorio E Alexa ci risponderà Ovviamente termometro laboratorio è il nome che ho scelto io Voi potete scegliere un altro nome Una cosa che vi consiglio non utilizzate i nomi di HT11 O LM35 O nomi corti Perché Alexa non se li prende Non so perché Ma ho provato con dei nomi del genere Se io vado a dire Alexa dimmi la temperatura di HT11 Non funziona Purtroppo ha un grave difetto E io spero che risolveranno presto Sul fatto che il sensore di temperatura Non può essere inserito nella routine In una delle routine di Alexa Non possiamo magari far effettuare delle cose ad Alexa Se la temperatura scende di tot gradi O sale di tot gradi Purtroppo non è inseribile in una routine E questo forse è una mancanza non indifferente Una cosa che magari più scaltri possono andare a fare Per ovviare a questo problema Invitare Alexa A fare una determinata routine Utilizzando un if all'interno del codice Magari scrivendo if Temp maggiore di 10 gradi E all'interno far fare qualcosa Una cosa che vedrete nel prossimo video È utilizzare effettivamente dei pulsanti Dei pulsanti fisici Per abilitare delle routine di Alexa E quindi magari potremmo utilizzare poi Per andare ad integrare questa caratteristica All'interno di un if E quindi magari fargli fare delle cose Se la temperatura sale di un certo limite O scende di un certo limite Ragazzi come per il video precedente Io vi chiedo di arrivare almeno a 90 mi piace Perché così so che queste cose vi piacciono E ve le posso portare Posso mettermi lì a capire come funziona un determinato meccanismo Semplificarvi le cose Scrivere il video Registrarlo Prepararlo E eccetera eccetera Perché per fare queste cose Comunque sia ci metto un pochino Quindi 90 mi piace Per il prossimo video Dedicato ad Arduino IoT Cloud E da Alexa E noi ci vediamo al prossimo video Non so se è dedicato a questo O magari ad un altro argomento E buona sperimentazione Ciao ragazzi E ci rivediamo qui Su Filo Connesso Ciao